treviglio domani ci vediamo treviglio ci spieghi che cosa ci facciamo noi all'una e mezza di notte in un supermercato prendiamo un mango per esempio lo troviamo quindi sgarbi va al supermercato a questo così arriviamo così poi si fa a prendere le cose quali una e 34 sono troppe questo qui sarà buono ma qual è meglio salame dolce questo qua qual è la marca migliore pane carasau grissini il gorgonzola dove è se ne ho fatto una buona selezione buone che si fa pesche non manca quelle piccoline non ci sono dopo il cocomero di pesaro questo è il cocomero di caravaggio qui c'è qualcosa di non convincente però ecco mi ha fatto una volta la nostra scenetta grazie buona serata grazie